Ci siamo, signori! Finalmente, finalmente, quel povero Cristo di Udyr verrà reworkato. Oh, finalmente! Sono così dannatamente contento che ricevo un rework e se lo meritava perché Poretto è proprio messo una merda e adesso la gente lo vede che è forte in competitivo e in solo chi dice Ma non serve un rework? Sì, devi romperlo il campione per farlo funzionare. Per quanto mi faccia sorridere e vederlo goffamente correre per la landa, vorrei vedere qualcosa di più Da quello che è probabilmente uno dei campioni più iconici e più antichi di GoF Legends. Ragazzi, è uscito nel 2009 Udyr, quando il gioco era ancora in beta, rendiamoci conto. Ma, ma, prima di partire in quella che è il nostro deep dive, la nostra analisi, che poi voglio anche fare un paio di premesse Giusto per rendere le cose un po' più chiare, vi ricordo un paio di cose. Di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace al video se vi piace ovviamente, commentare sotto se avete dubbi o domande Da quanto riguarda rework o quanto altro del mondo di League of Legends E vi ricordo, inoltre, che ho cominciato una serie sulla lore. Ci sarà un altro video breve, siamo già al quarto e con calma inizierò a farne di più Vedrete poi i risultati nel tempo Però sto cercando di affrontare varie tematiche del mondo di Runeterra Di rendervi un po' più partecipi, di immergervi all'interno di queste storie Perché sono veramente troppo belle per non essere raccontate Ma ora buttiamoci nel video Vi ricordate, come vi dicevo che volevo fare un paio di premesse Voglio partire da un attimo da questa categorizzazione Tra i vari update possibili per un campione Perché vedo spesso molte persone confuse O che utilizzano termini che non c'entrano niente Tipo, facciamo un esempio Molte persone pensano che il rework che arriverà Ad esempio a Tamkenci in tempi brevi Sia un VGU Quando non è davvero così E quindi ho voluto un attimo categorizzarli E differenziarli così che almeno Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando Allora, il più semplice è un VFX update Che l'aggiornamento delle animazioni delle spell di un campione Senza cuna modifica il modello alle sue animazioni o al suo gameplay Una volta ogni tanto la Riotov prende e aggiorna Quelle che sono le animazioni di un campione Per renderle un po' più moderne Per renderle un po' più efficaci Abbiamo visto magari negli anni Anivia, Ari Ci sono veramente maree infinite i campioni Che hanno subito questo effetto E meno male perché alcuni campioni avevano delle animazioni Proprio brutte 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 Ma proprio le animazioni delle spell Nemmeno del campione del modello in sé Quindi soltanto a livello di spell Sono il reward più semplice di solito Infatti tendono a buttarli un po' All'interno dei kit quando possibile L'hanno fatto ad esempio anche a Kennen di recente A un paio di mostri del Void Per renderli un attimo più coerenti Il succo è quello Quello di rirendere più moderni Certi campioni che non sono poi messi così male I visual update invece Sono qualcosa che ultimamente Riot sta facendo un po' meno E sono un po' triste perché sono secondo me quelli che dovrebbero fare più spesso Che sono i visual update Che sono l'aggiornamento del modello Delle via animazioni Degli effetti grafici del spell Però senza alcuna vera e propria modifica di gameplay Per farvi l'esempio I due più recenti sono Ezreal e Morgana Quando Morgana è uscita con il rework di Kyle E Ezreal l'unica cosa che hanno aggiornato è la sua W Che sì, piccola modifica a livello di gameplay Ma il senso era comunque lo stesso Uno schiccio lineare e quindi Figo, assolutamente Ma erano rework molto semplici Non andavano a creare cose strane Quello che andavi a fare era Migliorare il modello di gioco Migliorare le animazioni delle spell Mettere magari qualche voiceline nuova O semplicemente rifare il doppiaggio E' così bello Vedere un campione che già funziona Ed è bilanciato ed è funzionale Avere semplicemente un aggiornamento a livello grafico E nient'altro Perché spesso e volentieri non è necessario cambiare altro Spero che le ripropongano in futuro Perché ci sono certi campioni che ne avrebbero disperatamente bisogno Che però hanno dei bei kit Per dire, secondo me, Kennen sarebbe perfetto Kennen ha delle animazioni antiche sul suo modello E il suo modello è abbastanza bruttino Ma queste sono opinioni Poi abbiamo i gameplay update Che quelli invece li vediamo un po' più spesso I gameplay update Abbiamo gli aggiornamenti del kit Abbiamo le modifiche grafiche Niente di troppo esagerato Uno degli esempi più recenti E' quello di Wukong Che ha avuto delle modifiche Anche abbastanza pesanti al suo kit Ma mantenendo comunque l'identità del campione Chiunque abbia giocato prima e dopo Wukong A meno che non vada a leggere Come funzionino le spell Non si accorgerebbe molto della differenza Con, però, un grosso impatto a livello di gameplay Quindi quando lo giochi Il feeling è simile Ma è anche molto diverso allo stesso tempo A breve arriveranno quelli di Tahm Kench e di Rammus Che molti hanno definito un rework Non sono dei rework Perché un rework ormai è categorizzato come quello che è un VGU Che vedremo dopo E' soltanto un gameplay update Che, sì, modifica pesantemente il campione A livello di gameplay Allo stesso tempo non cambia troppo il feeling E' sempre lo stesso campione Senza andare a fare grosse differenze E poi l'ultimo è il VGU Questo è proprio il massimo possibile A zero il campione non esiste più Il campione viene riconcepito da zero Viene ricreato l'aspetto Il kit Le spell Le animazioni La storia I canoni Tutto Tutto Tabula rasa Ricominciamo da zero Fido, Six e Volibear L'anno scorso sono esempi lampanti Di come questo sia un Visual Gameplay Update Lo stesso discorso anche per quanto riguarda Mondo che sarà il prossimo ad arrivare Lui è un Visual Gameplay Update In pratica sono quei Sono i rework che vanno a prendere un campione E cambiarlo totalmente Sono i più pesanti I più complessi E quelli che richiedono in norma Più lavoro in assoluto Di norma Più lavoro in assoluto Non so parlare In tutto ciò Quest'anno che cosa hanno fatto? Hanno fatto votare alla gente Come Chi sarebbe stato reworkato Tra Skarner, Nocturne, Queen, Shyvana e Udyr Hanno deciso di La community in toto Ha deciso di evocare Udyr E grazie Perché gli altri Sì è intrigante Magari l'idea di un Nocturne Per me Nocturne Dovrebbe essere il secondo in classifica Pari merito con Shyvana Seconda in classifica Queen è tipo Sì forse dovrebbe essere reworkata E anche Skarner Però più in là nel tempo Mettiamola semplicemente così Primo VGU del 2022 E è stato assurdo Cioè quando l'hanno fatto Tipo nel 2020 Nel 2019 Era tipo Ok Porca troia C'erano due campioni alla pari Che erano Fido Sticks e Volibar Infatti avevano deciso di fare entrambi Facendoli uscire lo stesso anno Quest'anno invece Purtroppo avremo soltanto Un Visual Gameplay Update Che è quello di Mundo Perché in teoria Dovevamo averne un altro Che era stato nascosto Ma poi è stato congelato Il suo sviluppo A causa di Uno dei developer Che lavorava Quel Visual Gameplay Update Che ha deciso di lavorare All'MMO di Riot E quindi non mi sento neanche triste Di dire Vabbè Peccato Sì perdiamo un rework Ma sta andando a lavorare All'MMO di Riot Quindi Quindi L'anno scorso Era un testa a testa L'ultima volta Che hanno fatto questo Cosa Questo sondaggio Era un testa a testa A sto giro è tipo Universale Vi prego reworkate Udir Cioè proprio A livello globale Tu guardi sto grafico E dici Porca troia Ok vogliono davvero Udir a tutti i costi Neanche una differenza piccola Sono stupito di vedere Skarner così in alto Però posso capire Diciamo che essere la vittima Del turbo capitalismo di Seraphine Non è proprio il massimo Come lore E anche il gameplay È abbastanza palloso Vedere quindi in fondo Mi dà una soddisfazione eterna E Shyvana Capisco Capisco perché sia così alta Non capisco Nocturne invece Nocturne ha un potenziale gigantesco Per un rework Ma Andiamo avanti Non solo ha vinto con un notevole scarto Dopo aver calcolato tutti i voti Ma vuol dire Anche il campione nettamente più votato In ogni singola regione Negli anni scorsi Quando abbiamo visto ad esempio Quello di Fidosix e Volibear Si alternavano un po' Tra varie regioni Alcune vinceva Fidosix Alcune vinceva Volibear Facevi la media Era un testa a testa Ed era figo vedere come Varie regioni votassero in maniera diversa Qua invece sono tipo Cazzo Reworkate Udir Per favore Povero Cristiano Sembra Sembra un monco che cammina Tutti sono contenti Del rework di Udir Non penso sinceramente Che non ci sia una persona Che esista una persona triste Per il rework di Udir E qua di quando Andiamo a iniziare le danze Con qualche parola Alcuni degli sviluppatori Che dicono Ad esempio c'è Stashuk Gameplay designer Molto Molto carini Alcuni dei campioni Che è andato a creare Però ho un po' paura Perché tende a fare cose Un po' sbroccate Vedrete poi Dice Spero di riuscire a rendere giustizia La sua classica danza Delle posizioni Perché per chi non sapesse Il contesto Udir È come un ballo Non proprio un ballo Cioè il modo in cui Si va a legare Al reame spirituale Il modo in cui Riesce a incanalare Il suo potere Richiede comunque Un procedimento Una meditazione Una danza Molto complessa Infatti effettivamente Non ha quattro forme Ne avrebbe 32 Però diciamo che A livello di gameplay È un po' complicato Includere tutte le Se non ricordo male Potrei sbagliarmi Mi ricordo 32 Magari il numero È sbagliato Ma c'era una storia breve Su Universe Che parlava di questa cosa Il fatto che Udir Abbia veramente Tante forme Di forme animali E quindi Oh Magari abbiamo Il nostro invoker Sul League of Legends Invoker è un personaggio Di dota Estremamente complesso Che tipo Ha una marea di spell Magari con Udir Faranno una cosa simile Sarebbe molto divertente Vedere più forme Oltre alle 4 Però renderebbe Un po' complesso Il tutto per Riot Quindi chissà Vedremo nel tempo Concept Artist E Riot Earp Io adoro I suoi concept Sono bellissimi Cioè per dirvi Guarda che figo che è Questo è uno Dei primi concept Che ha fatto Per Udir Cioè sono bellissimi Visto che sanno Che hanno vinto Che ha vinto Udir Allora L'ho cominciato subito A lavorare Uno dei nostri campioni Più vecchi Era ora che ricevesse Un aggiornamento Il potenziale Per essere Due personaggi Più interessanti Il gioco Non vedo l'ora Di mettermi al lavoro Per capire Quale possa essere La migliore versione Del nostro barbuto Sciamano degli spiriti Ci sono molti aspetti Di questo campione Che funzionano già bene E possiamo rifinire Queste caratteristiche I suoi elementi naturali Antichi e primordiali Oltre a migliorare Le diverse posizioni E fare in modo Che sia in sintonia Con l'ambientazione Del Freljord Perché sì È un po' complessa La storia di Udir Ha legami con Ionia Ha legami con il Freljord E quindi Molti confondono le cose Magari un giorno Ne parlerò Quando uscirà Il rework di Udir Visto che Dobbiamo fare Un prima e dopo Sarebbe carina Come cosa Ma vedrete poi Vedrete poi Quindi qua abbiamo Alcuni dei concept Poi a livello narrativo Non so quanto Vorrebbero cambiare Perché adesso È un po' più inserito Nella lore di League of Legends Un cuore selvaggio E profondamente umano Vogliamo rendere giustizia A questi aspetti E cercheremo di capire Come il nostro sciamano preferito Possa riuscire a bilanciare Tutti gli elementi Che lo compongono E allo stesso tempo Stabilire una connessione Più profonda Con la ferocia E lo spirito del Freljord È già da un po' di tempo Che il team narrativo Di lore riflette Su questo personaggio Supposto che dovrebbe Avere suo root terra E sono molto felice Di potergli finalmente Dare le attenzioni Che merita Essendo un po' Un personaggio Che viaggia anche tanto È abbastanza normale Che si comincia a pensare Regà Dobbiamo trovare il modo Di dargli una quadra Perché o lo reworkiamo O facciamo qualcosa Per farlo funzionare Era necessario Per fortuna Che ha vinto Udir Davvero Per fortuna Che ha vinto Udir Ma nei sondaggi Avevamo anche La possibilità Di scegliere Una tematica Per le skin Di quest'anno Sì Il che suona assurdo Perché non pensavo Che avrebbero mai Fatto una roba del genere Ma è molto figo Una tematica degli aspetti Che cosa significa Sapete come ci sono Le skin line Tipo escono in blocco Tipo ad esempio Ora sono uscite Tutte le skin Bestie lunari Con il pass Eccetera eccetera Con l'evento Ci hanno dato la possibilità Di scegliere una tematica Io la trovo Fighissima Sta roba Cioè Un tempo Lo sognavamo Che lusso Che lusso Che lusso davvero Siamo felici Di annunciare Che incubo nella città del crimine È arrivata al primo posto Con un discreto margine Prima c'era Crime City Che erano le vecchie skin mafia Che poi hanno deciso Di cambiare Per non so quale maledetto motivo Poco importa Città del crimine Quindi avevamo Il classico Gangster Twitch Gangster Miss Fortune Gangster Graves Eccetera 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 Che però Non erano male Però erano il classico feeling Sì Sono fighe Però non Non Sono un po' vecchie Come tematica Come feeling Incubo nella città del crimine Invece che cosa va a mescolare Quelli che sono I poteri oscuri Un po' Nemmeno del Void Uno potrebbe pensare il Void Piuttosto Più verso L'Octulu Mescolato agli anni venti Alla scena criminale Degli anni venti Quindi Molto figa come tematica Molto molto figa Dopo lo descriverò meglio In seconda posizione Troviamo Rubacuori 2.0 Seguita a stretto giro Da Domatori di Mostri Diciamo che Domatori di Mostri Presentandolo con Gianna e Ezra La gente era tipo Fuck nope Mentre invece Rubacuori 2.0 Avevano una bella presentazione Quindi posso capire Perché abbia Si è arrivato in seconda posizione Rubacuori 2.0 E Domatori di Mostri È tipo Va deletro Satana Città del crimine È vinto nettamente In tutte le regioni Tranne la Cina In cui Rubacuori Si è rivelata Leggermente più gettonata Quindi A livello globale Potete vedere qua Il grafico Che fa capire bene In come una città del crimine Sembra una tematica Fichissima Quindi la vogliamo tutti Rubacuori Era la seconda più famosa E Domatori di Mostri Era tipo No grazie No grazie Proprio Qualcuno Sì Ma ci sono sempre Fan di Ezra Leggianna E dovete volere bene Anche a loro Qua invece Facciamo vedere Come i risultati La votazione Nel tema In Cina Era un po' Più alternato Con Rubacuori E Incubo nella città del crimine Che comunque Erano molto molto in alto A confronto Con Domatori di Mostri Però L'importante È che abbia vinto Incubo nella città del crimine Avevamo già detto in passato Che avremmo considerato Di posizionare Più di una di queste tematiche In base ai risultati E abbiamo arrivato Grande entusiasmo Per tutte e tre le scelte Nel 2021 Vedrete l'arrivo Nella landa Di Incubo nella città del crimine E Rubacuori 2.0 Quindi li avremo In tempi diversi Ma arriveranno entrambe E continueremo a considerare Anche Domatori di Mostri Beh in futuro No 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 Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non potremo essere più entusiasti Di poterci immergere a fondo In la creazione di Incubo Nella città del crimine Per offrirvi gli aspetti Che possano piacervi Al momento Il nostro obiettivo per il lancio È il terzo trimestre Quindi tra luglio e settembre Ok Ok Quindi se dovessimo concepire Un campione Che esce In quel periodo Sarebbe la sentine Uuu Perché Allora Consideriamo che di solito In media Tra un campione e un altro Ci sono almeno due mesi Campioni nuovi Sto parlando L'anno scorso è stato strano Per il covid Quindi non lo contiamo Quindi Sei campioni all'anno Uno ogni due mesi Comprensibile Gennaio Marzo Aprile Giugno Agosto Ottobre Quindi sarebbe Il quarto campione dell'anno Sarebbe la sentinella della luce Ok Ok Ci starebbe un casino Oh mamma Sì perché adesso Ogni volta che fanno Delle nuove tematiche Dei nuovi eventi Tendono a farli Con i campioni nuovi Comprensibile Visto che così Esce in blocco Un botto di roba nuova E tipo Io sono sempre contento Quando succede Poi non so voi Sono gusti Non c'è giusto sbagliato Su questo genere di cose Vedremo Vedremo Ok Tra luglio e settembre Figo 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 Abbiamo in programma Un aggiornamento Sull'avanzamento dei lavori Intorno alla metà dell'anno Cercando di non rovinare Troppo Beh Comprensibile A cui gli elementi Che gli sviluppatori E il reparto tematica Non vedono l'ora affrontare Eleganti signori del crimine Che fanno lo schiaffare Con entità infernali Cosa c'è di meglio Questa tematica Ha grandi potenzialità Che ci permetterà Di spostare Un'ambientazione Incentrada sull'horror Che ancora abbiamo esplorato Sull'horror Nel inferno Non lo considero Molto horror Pensavo fosse una cosa Più dark Più oscura Non vedo l'ora di scoprire In che modo I nostri artisti Daranno vita A questa tematica Sinistra e misteriosa Spero solo Che non finiremo Per impazzire Eccessivamente Nel farlo Ecco Infatti Jared Rosen Che è il nostro Bell'uomo Il Not Quite Frodo Su Twitter Che ci regala Una marea di spoiler Spoiler no Però semplicemente Ci dà delle chicche Di lore gigantesche Gli orrori cosmici Classici Incontrano bande criminali Agli anni 20 È tipo Fighissima come idea Così sì Ci sto Gli orrori cosmici Sì Entità infernali E tipo No abbiamo già Abbiamo già Quelle western Che adesso hanno messo Angeli e demoni Uno contro l'altro Per favore Orrori cosmici Sì grazie E di più Orrori cosmici Ne abbiamo bisogno Di quelli I umenevole Immunabili Mostrano gli angoli Bui al confine Universo Stringendo patti oscuri Mentre si diffondono Nel mondo Cioè È geniale Così sì Per favore Così assolutamente Sì Per favore E poi concludono Dicendo Ringraziandoci Di parte di tutti I membri del team Degli aspetti I campioni Per l'entusiasmo Il feedback La partecipazione La votazione E poi Hanno detto Ne riparleremo In futuro Di tutte queste cose Non vedo l'ora Non vedo davvero l'ora Perché la Riot Sembra avere belle idee Per quest'anno Spero che ci siano Anche annunci Di qualcosa Tipo Proprio delle palle curve Che arrivano dal nulla Tipo Come scusa Tipo Robe a caso Che non ci saremo Mai aspettati Spero davvero Spero davvero Ho bisogno Di un po' Di sorprese Perché sto cominciando Ad abituarmi Un po' Cioè Capite come Abituandomi ai ritmi Riot Riesco a concepire Ok queste skin Adiveranno Concepisco i periodi In cui possono arrivare Diciamo che toglie Un po' Della sorpresa E non è neanche Una questione di Eh vabbè Ma Napo Magari parli troppo Con i Riot No Purtroppo Sto entrando Nello schema mentale Di che cosa fanno E come lo fanno Ok che lavoro Da dieci anni Sul League of Legends Però forse Forse Quei dovrebbero Cercare di Non lo so Mettere un twist Alla formula Mettiamola semplicemente così Signore e signori Questo è quanto Per questo video E noi ci vediamo Al prossimo